buongiorno miei carissimi amici di investire in borsa caccia di dividendi allora oggi chiacchierata dai novità alle mie spalle qualche fiore dare un po di colore a dare questo sentore di primavera inoltrata nonostante le temperature ancora insomma non siano proprio estremamente primaverili ringrazio la suocera visto che questi fiori vengono direttamente dal suo giardino e spero in mia moglie per la loro sopravvivenza io infatti pollice verde proprio zero non ce l'ho io ho la capacità di far morire fiori piante nel giro di pochissimi giorni ma detto questo visto che a voi di sicuro non vi fregarà niente dei miei fiori alle mie spalle passiamo al tema di oggi ovvero coinbase che come avevo detto qualche giorno fa si è quotata sul nasdaq e non è stata un'ipo tecnicamente però insomma qualcosa di simile e bitcoin allora partiamo subito dal presupposto io non ho mai investito in bitcoin lo sapete già mi direte però hai fatto male eh sì ho fatto male perché le quotazioni danno ragione a chi ha puntato sulle criptovalute le quotazioni danno ragione a chi ha investito su bitcoin però io ragazzi non capisco bene il funzionamento dei bitcoin quindi alzo le mani e dico investo solo in quello che capisco sinceramente non ho capito bene il meccanismo per cui il bitcoin si apprezza o per cui il bitcoin scende di valore e soprattutto non mi piace la volatilità altissima che hanno le criptovalute detto questo il futuro potrebbe essere delle criptovalute sì forse sì probabilmente sì non lo so però in ogni caso che i beni che noi compriamo solitamente che possono essere dalle automobili dal cibo al pagamento delle utenze che vengano pagate in futuro tramite criptovalute o che vengano pagate sempre tramite l'euro o chissà che cosa ancora questo a me non interessa mi interessa che comunque di sicuro continueremo a consumare energia elettrica continueremo a consumare gas continueremo ad acquistare automobili continueremo a comprare cibo dentifrici coca cola insomma l'economia continuerà di sicuro a girare senza cellulare non potremo andare in giro i computer continueranno a essere venduti e così via quindi diciamo se da una parte ho le criptovalute che stanno crescendo ma non so quale sarà il loro futuro non so se tutte resisteranno al prossimo futuro e dall'altra parte ho aziende che producono utili non so se tutte continueranno a produrre utili ma so che gran parte di esse e quindi l'economia continuerà comunque a crescere quindi un investimento diversificato in azioni nonostante gli alti e bassi dei mercati probabilmente nel lungo termine continueranno a dare le soddisfazioni che hanno dato anche in passato ok fatto questo cappello introduttivo mi sono fatto gli appunti quindi ogni tanto abbasserò lo sguardo fatto questo cappello introduttivo abbiamo da una parte la criptovaluta che sale e scende per vari motivi magari alcuni di voi lo sapranno meglio di me ed eventualmente me lo possono scrivere qui nei commenti dall'altra parte abbiamo Coinbase allora Coinbase detto in parole povere è un exchange ovvero una piattaforma dove si comprano e vendono criptovalute ed è alla fin fine un'azienda un'azienda che per il lavoro che fa produce ricavi e soprattutto quello che mi interessa produce utili infatti che un'azienda produca ricavi e che aumenti i propri ricavi è sicuramente interessante ma condizione necessaria perché si possa investire in una determinata azienda acquistando le sue azioni secondo me è comunque la produzione di utili e l'aumento nel tempo di questi utili utili che poi possono essere reinvestiti nell'azienda stessa o possono essere distribuiti sotto forma di dividendi allora quando investo in azioni quindi cerco azioni che producono utili perché? perché nel lungo termine il prezzo dell'azione è determinato dalla quantità di utili che sprigiona l'azienda purtroppo in questo momento stiamo vedendo tante azioni di aziende che alla fin fine non producono ancora utili ma il prezzo delle loro azioni sta crescendo solo sull'attesa delle produzioni di utili in futuro forse sta crescendo anche troppo allora non faccio nomi ma credo che le azioni di maggiore hype sono sotto gli occhi di tutti alla fin fine quello che conta quindi nel prezzo di azione sono gli utili passati gli utili presenti ma ovviamente anche gli utili futuri quindi giusto che un'azione salga e scenda sulle prospettive degli utili futuri ma mentre gli utili passati e gli utili presenti sono una certezza gli utili futuri sono solo una proiezione fatti eventualmente da società di analisi che abbiamo visto purtroppo in passato hanno anche toppato alla grande quindi ricapitolando preferirei investire in Coinbase che è un'azienda che tutto sommato produce utili o in Bitcoin che può scendere e salire Bitcoin che può anche scomparire in futuro questo qui noi non lo possiamo sapere anche Coinbase può comunque smettere di produrre utili ma è comunque un'azienda quindi personalmente se dovessi scegliere preferirei investire in Coinbase che è tutto sommato un'azienda e che guadagna alla fin fine dallo scambio che c'è sul mercato delle criptovalute e che quindi non è strettamente legata a Bitcoin se Bitcoin per un motivo o peraltro dovesse scomparire molto improbabile ma se dovesse succedere magari Coinbase guadagnerà sullo scambio che c'è su Ethereum o altre criptovalute a tal riguardo mi appoggio ho il cellulare qui a un bellissimo post di Renegade Insider Finanza presente su Instagram che cerca di analizzare quanto vale veramente Coinbase io avevo già detto in un mio precedente video che non avrai assolutamente investito nel giorno di sbarco sul Nasdaq di Coinbase perché è veramente difficile dare una valutazione a un'azienda che è così da poco tempo sul mercato comunque facendo un piccolo riepilogo Coinbase è la piattaforma per lo scambio di criptovalute fondata nel 2012 si è appena quotata con una valutazione molto volatile attualmente il prezzo attorno ai 340 dollari per azione con una valutazione tra gli 80 e i 100 miliardi di dollari quindi valutazione veramente altissima ma poi parleremo anche del prezzo solo a fine anno del 2020 la società era stata valutata appena 28 miliardi di dollari ma c'è stato veramente un boom delle criptovalute negli ultimi mesi che hanno gonfiato comunque la valutazione di questa azienda e attualmente Coinbase conta pensate 53 milioni di utenti in rialzo del 23% rispetto a fine 2020 e con un più 66% rispetto al 2019 la società guadagna per l'89% del fatturato da commissioni variabili sul prezzo delle transazioni delle criptovalute quindi più alto il prezzo della criptovaluta e maggiormente Coinbase guadagna ovviamente se io compro un bitcoin che vale 1000 euro pagherò x euro di commissioni se compro un bitcoin che adesso vale circa 60 mila dollari pagherò molto più di commissioni la restante parte del fatturato quindi circa l'11% e verosimilmente una fetta ancora più larga dei profitti sono realizzati in casi particolari una cosa un pochino più tecnica in cui Coinbase non funge da intermediario ma diventa controparte vera e propria comprando e vendendo le cripto e assecondando la domanda in qualunque momento quindi questo fa sì che Coinbase possa creare domanda fittizia per determinate criptovalute pampandone eventualmente anche il prezzo e quindi ottenendo alla fin fine un doppio profitto dal rialzo del prezzo della criptovaluta e dalla commissione incassata per la compravendita stessa ovviamente questo potrebbe essere un conflitto di interessi che potrebbe portare a seri rischi in caso di regolamentazione futura quindi attenzione perché qualche rischio ovviamente c'è Coinbase è la seconda piattaforma per criptovalute per volumi ed è la prima negli Stati Uniti la prima in assoluto leader a livello mondiale è Binance forte la crescita degli utenti e attualmente le criptovalute valgono 2 trilioni di dollari a livello globale rappresentano appena il 2% degli asset finanziari globali ma è possibile che questo volume aumenti comunque in un prossimo futuro perché è stato comunque provato che le criptovalute almeno fino ad ora hanno funzionato come asset decorrelante del portafoglio e forse anche come possibile edge ovvero come possibile copertura dalla inflazione sappiamo benissimo la volatilità della criptovaluta quindi questo potrebbe essere un punto di debolezza per Coinbase visto la forte correlazione tra l'andamento delle criptovalute e l'andamento del fatturato di Coinbase la concentrazione su Bitcoin di Coinbase perché rappresenta il 41% delle transazioni fatte su Coinbase e un'offerta attualmente ancora limitata di prodotto perché alla fin fine Coinbase è una delle più limitate piattaforme presenti sul mercato in termini di offerta di Coin con una cinquantina di tipologie di cripto offerte altre piattaforme ne offrono molte molti di più altri punti di debolezza potrebbero essere pressioni ribassiste sulle commissioni incassate visto che attualmente la commissione incassata da Coinbase sulle transazioni scrive Renegade Insider finanza è di circa lo 0,6% ampiamente sopra i concorrenti perché Binance si aggira su percentuali molto più bassi anche un sesto di queste commissioni ma anche Kraken o AIS comunque hanno commissioni veramente inferiori in più come detto in precedenza c'è un rischio regolatorio la valutazione allora veramente difficilissima nel caso specifico del Bitcoin si è visto che il ciclo di crescita dura circa 4 anni è fatto di periodi rialzisti di 12-24 mesi dopo l'Helving e ribassisti che seguono nei mesi successivi se crediamo a questa assunzione e alla teoria dello stock to flow che vede il Bitcoin a 100.000 dollari entro il prossimo Helving del 2024 ditemelo se nei commenti se voi ci credete o meno il fatturato di Coinbase a quella data dovrebbe essere di circa 7,2 miliardi di dollari rispetto al fatturato atteso del 2021 di circa 4,1 miliardi quindi con un tasso di crescita composto del 20% annuale che non è affatto male la comparazione possiamo dire dei concorrenti ci mostra dice Renegade Insider Finanza che affronti una crescita tripla se non quadrupla nei prossimi tre anni rispetto agli altri exchange Coinbase è valutata appena il doppio o il triplo quindi sotto questo punto di vista potrebbe essere un buon prezzo quello attuale forse un prezzo non regalato ma un buon prezzo eventualmente da sfruttare in caso di forte appeal sul mercato come abbiamo visto negli ultimi mesi alla fin fine il prezzo di tante azioni che sono state pompate anche se ultimamente molte di queste hanno un po' ripiegato caso classico Black Power Peloton ma anche Palantir tanto per fare alcuni esempi insomma quelli che sono cresciuti di più nel 2020 ultimamente hanno un pochino zoppicato venendo al prezzo delle azioni di Coinbase in questi tre giorni di quotazione mercoledì giovedì venerdì allora ricordo che il prezzo di ammissione sul mercato era stato inizialmente di 250 dollari nessuno è riuscito a comprare l'azione a questo prezzo anzi nei primi o minuti ma anche nelle prime ore di contrattazione l'azione non è riuscita a fare prezzo ha aperto attorno ai 400 dollari quindi ben sopra i 250 iniziali per poi stornare violentemente e scendendo ciò qui il grafico vicino ai 300 dollari dopo di che è iniziata una risalita fra virgolette lenta ma non lentissima chiudendo venerdì sera a 342 dollari quindi con un rialzo di circa il 10% dai minimi segnalati allora insomma abbiamo visto come si è mossa per quanto mi riguarda insomma ancora molto presto per me per investire in un'azione di questo tipo poi insomma una piccola scommessa si potrebbe fare per me si tratterebbe di una scommessa l'acquisto di questa azione 340 dollari cosa sono circa 300 euro 2-3 azioni si potrebbe anche rischiare però sinceramente preferisco eventualmente perdere un treno di questo tipo e magari cogliere investimenti più tranquilli questo qui chiaramente è sempre una mia opinione dettata dal mio stile di investimento però se volete dirmi la vostra ovviamente i commenti sono sempre ben accetti prima di finire vi ricordo un piccolo like a questo video aiuterete il mio canale youtube a crescere ulteriormente se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e ci vediamo nei prossimi giorni con le conseguite magari analisi di azioni più da dividendo etf da dividendo qualche certificate e sempre qualche pillola di finanza comportamentale un caro saluto a tutti da Lorenzo a presto e ciao ciao